Buonasera amici di Dopocena, benvenuti a questa puntata. Tratteremo una sfera, una sfera emotiva e io introduco subito l'ospite di questa sera perché così capite quale sarà l'argomento di cui affronteremo nei prossimi minuti le dinamiche interpersonali che ci potranno caso mai riguardare. Introduciamo subito una gradita presenza sempre qui e ben ritrovata la dottoressa Sabina Godi, psicologa, psicoterapeuta che è stata già più volte qui sui nostri divani per diverse argomentazioni. Quindi avete già capito cari amici che tratteremo della psiche e delle sue dinamiche. Allora, un argomento, quello di questa sera abbastanza ampio, ma come sempre cerchiamo di dipanare un po' la matassa. L'argomento di questa sera è il senso di colpa e quindi capiremo che cos'è, come si manifesta e quali sono le sue implicazioni a livello personale e a livello emotivo. Allora, senso di colpa o sensi di colpa? Guardalino, quando abbiamo stabilito questo tipo di argomento quello che posso dirti è che è stato difficile per me, come dicevi tu, metterlo in una cornice accettabile, cioè in una cornice che non fosse banale e neanche tanto intellettuale, quindi lontano poi dalla comprensione per i non esperti, non addetti ai lavori. Senso di colpa, parliamo del senso di colpa. Ecco, qui già siamo aiutati in questa tua disamina. Allora, i forti sensi di colpa sono la malattia del io mi voglio male. Faccio una premessa, sicuramente ognuno di noi nella nostra vita avrà percepito il senso di colpa, quindi una sensazione spiacevole, poi dopo la andremo a definire meglio, che cos'è. Una sensazione comunque spiacevole. Come abbiamo detto anche in altre occasioni, le emozioni possono essere comprese all'interno di un range, un range di tollerabilità. Quando il senso di colpa è, così come ho definito con quell'aggettivo, forte, tanto da contaminare la qualità di vita, tanto da contaminare la capacità della persona di relazionarsi con altre persone, diventa una sensazione tanto spiacevole per chi la prova, tanto da essere l'espressione del volersi male. Ti faccio un esempio, partendo proprio da, così almeno siamo un pochino più pratici. L'esempio è questo, che ne so, una persona, chiamiamolo Tiziano, che si considera una brava persona nel momento in cui non dice mai di no. Quindi nel momento in cui le persone gli chiedono, Tiziano mi fai questo favore? Sì sì, lo faccio. Che succede? Un giorno un suo amico gli chiede una cortesia, un piacere, e lui però ha un impegno di lavoro e non riesce a dire di sì. Quindi è costretto a dire di no. Dentro di sé inizia a provare un fortissimo senso di colpa, immaginando che questo amico, questa persona, proprio a causa del suo no, lo inizi a etichettare, a giudicare male. Quindi è una persona inaffidabile, una persona che non è presente, non è disponibile. E questo pensiero, quindi l'immaginare che l'altro possa pensare che lui sia inaffidabile, diventa per Tiziano qualcosa di tanto tanto pesante. Dietro questo senso di colpa, Tiziano prova la paura che, se continuasse a dire ancora no, il suo amico romperebbe rapporto. Quindi Tiziano si sentirebbe solo. Questo l'esempio per dare la definizione. Ecco, cerchiamo, capita la dinamica, è giusto circoscrivere anche con una definizione, perché le parole, insomma, gli esempi dell'autoressa sono estremamente precisi e circostanziali, però le definizioni ci aiutano anche a delimitare un po' il campo, la cornice. Ok, quindi il senso di colpa, invito Telino e le persone a casa a vedere che ho sottolineato, e messo in grassetto la parola di, ok? Sensazioni, che cos'è? Il senso di colpa è una sensazione spiacevole, legata ad un giudizio che la persona dà su se stessa nel momento in cui esce fuori dal suo solito comportamento, dal suo solito modo di pensare e dal suo solito modo di sentire. Nello specifico, qual è il giudizio che Tiziano si dava prima? Io sono una brava persona se dico sempre sì, quindi se dico no sono inaffidabile, con tutte le conseguenze che questo avrà nell'immaginazione di Tiziano, nelle relazioni. Quindi la sensazione che avverte colui che è, diciamo così, investito da questo senso di colpa, di colpa, mi raccomando, è questa sensazione di oppressione, di pesantezza, di cappa che lo avvolge. Quindi è una sensazione anche fisica che lo accompagna nella sua quotidianità. Ma quando è che diventa patologico, insostenibile e per cui bisogna venire possibilmente o confrontarsi con qualcuno che ci può aiutare, perché quotidianamente, insomma, anche noi abbiamo piccoli incidenti e ci sentiamo, come dire, un po' in colpa. Però non è patologico, quindi bisogna distinguere. No, assolutamente no. Ti ringrazio per questa domanda, perché questo mi dà l'aggancio per dire che l'eccessiva presenza e l'eccessiva assenza del senso di colpa sono tutte e due situazioni sintomatiche di una grave difficoltà dal punto di vista psicologico. Qual è il discrimine? Cioè quando il senso di colpa diventa per la persona condizionante, che vuol dire? La persona, esempio, Tiziano inizia quotidianamente a, in maniera quasi ossessiva, a rimuginare su quel no. Tanto che dentro di sé inizia a provare anche una sorta di disperazione. Tanto che inizia ad immaginare che a seguito di questo no, l'amico inizierà a parlare male di lui con altre persone. Adesso lo sto esagerando. Certo, però. Cioè, e utilizzo non a caso questa parola esagerare, esasperare. Cioè nell'immaginazione della persona il senso di colpa diventa, chiamiamolo così, patologico, permettimi questo termine, quando sfocia in una disperazione che perde il contatto quasi con la realtà. Possiamo definire, io posso dire di no, ma da lì a immaginare che Tiziano inizia a parlare male di me ad altre persone, che questo avrà un serio riverbero su gli altri, su come si rapporteranno a me, cioè è qualcosa di esagerato. Esagerato, come se dall'altra parte diventasse altrettanto esagerato, se io a seguito di questo senso di colpa, allora conviene che sto in casa, non faccio più niente. Quindi sui toni più depressi, quindi che sfocia più sulla depressione. Siamo molto vicini, spesso, vi dicevo che questi stati sono paralleli, se non sovrapponibili, a una patologia più importante che quella della depressione, spesso sono contigui come sintomatica. Uno degli elementi con cui si definisce la depressione è la presenza forte del senso di colpa, oltre all'umore basso, eccetera, eccetera. Però c'è questo. Sì, c'è questo. Vale anche l'opposto, il contrario, quando non se ne hanno per niente, anche lì è un bel guaio. Sì, assolutamente sì. Nell'ambito psichiatrico si parla di un disturbo, esempio che si chiama il disturbo antisociale, cioè che cos'è? Una persona che non ha la minima remora nel fare, che ne so, del male a qualcun altro. Quindi non sente il senso di colpa e anche lì c'è qualcosa che non va. Che non va, quindi non va bene. No, come sempre i due poli estremi, polo nord e polo sud, in psicologia non è che ci piacciono, sono tanto, l'equatore è bellissimo, i poli, beh, un po' meno. Andiamo un po' più sul problematico. Ecco, il di era, diciamo, causale al, puoi capire, il della, perché giustamente... Cambia. Cambia. Rifaccio come prima, esempio. Allora, che ne so, io, adesso non me le voglia mio marito, io prendo la macchina di mio marito e faccio un incidente. Ecco. Ecco, la, gli do una botta. Allora, sapendo quanto ci tiene, che succede? Io sento il senso della colpa, cioè dell'errore. Oggettivamente, io ho fatto un errore, ho sbagliato. Certo. E quindi sentirò il senso di aver sbagliato. Quindi della colpa. La differenza qual è? Che in questa situazione, nel senso della colpa, c'è un elemento reale, un errore reale, uno sbaglio reale che la persona ha commesso. Dall'altro lato, invece, nel senso di colpa, può esserci una situazione reale, di difficoltà, di errore, ma la persona lo considera in maniera esagerata, esasperata, tanto che condiziona il suo modo di sentirsi. Quindi è la, insomma, il discriminante è la smisurata importanza che si dà a una cosa che in realtà poi non ne ha più di tanto, perlomeno nel vivere comune. Sì. Mentre la persona che ha questa tipologia di disturbo è tendenzialmente una persona che tende a ingigantire, a enfatizzare un qualche cosa che in realtà non è. E' logico quando ci spostiamo su un versante di difficoltà seria. Certo. Quindi più c'è questa esasperazione, più è l'indice che ci stiamo spostando verso il polo. Il polo. Ok. Ecco, nell'esperienza, diciamo, quotidiana di lavoro, di persone che accedono al tuo ambulatorio, che incidenza ha questa tipologia di disturbo nei confronti anche di tutti gli altri che trattate voi come psicologi? Guarda, il senso di colpa è una sensazione, guarda, non lo chiamerei disturbo, perché è una sensazione che, come dicevamo poco fa, può ricollegarsi a una sintomatologia depressiva, a una sintomatologia ansiogena. Quindi c'è. 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 È presente. È presente ed è comunque una cosa che voi affrontate. Sì, sì, si tratta, lo trattiamo, sì, se ne parla, ci si confronta insieme alle persone. Proprio per il momento in cui c'è questa, io la chiamo la nuvoletta, no? Quando l'immaginazione è anche nefasta, quanto questa condizioni la vita reale della persona. Quindi il confrontarsi su quello che la persona, quello che sta immaginando in questo momento, se è realmente verificato, è un livello di confrontazione proprio tangibile. Tangibile. Ok. Bene. Insomma, allora è giunto il momento di conoscerlo un po' meglio, però gli esempi ci aiutano sempre. Sempre. Allora, ho pensato di portarvi quello che è l'albero genealogico del senso di colpa. Allora, chi è il babbo di senso di colpa? Il babbo è il giudizio che una persona dà verso se stessa. La mamma chi è? La sensazione collegata a questo giudizio di malessere sempre rivolta verso di me, che può essere la vergogna, disprezzo, eccetera, eccetera. Genitori, quindi babbo e mamma creano... Generano il senso di colpa. Il figlio che si chiama senso di colpa. Ecco, quindi abbiamo capito la genesi del senso di colpa. Però come tutte le famiglie ci sono anche, no? Gli scheletrini. Esatto. E anche qui, insomma, la grafica è sempre molto incisiva, ci aiuta a capire di che cosa parliamo. Sì. In ogni famiglia, ogni famiglia c'è i suoi segreti, tanto che anche nella famiglia senso di colpa ci sono dei segreti. Il segreto principale è che ciò che è non è quello che sembra. Cioè, ciò che... quindi il senso di colpa, questa sensazione così ingombrante, così presente nella persona, non è l'unica ad occupare, diciamo, la pancia, no? Il luogo deposto alle emozioni. Infatti il senso di colpa, se ti ricorderai lì, no? Ho parlato delle emozioni coperta, no? Quindi di cui l'ansia è una di queste. Anche il senso di colpa è una coperta, per cui dietro c'è qualcos'altro. Negli esempi che abbiamo fatto, nello specifico prima quello di Tiziano, la persona che diceva, io non posso permettermi di dire no, per Tiziano la paura sta dietro al senso di colpa. Cioè sta sotto, nascosto, nascosta. E qual era la paura per Tiziano? Non ho la paura di rimanere solo se diceva di no. Altro esempio, che qui ho brevemente accennato. Tipo, un altro giudizio che una persona si può dare è, le persone buone non si arrabbiano. Ecco. Quindi che succede? Che la persona sente la rabbia, magari immagina di esprimerla e subito la copre con un caldo senso di colpa. E via. E via, e li finisce. Quindi insomma, queste sono, come sempre, le cartine torna sole di una motivazione, di un qualche cosa che cova sotto la cena. Un po' in quasi tutte le situazioni che affrontate c'è questa dinamica, no? Vedete il sintomo ma poi si va alla ricerca di ciò che lo ha scatenato, che è la vera causa da rimuovere. Sì. Perché che succede? La persona, per la persona, ad esempio, esprimere rabbia diventa qualcosa di difficile. Per cui, come se la giustifica questa difficoltà, tac, ci metto sopra una bella copertina e finisce lì. Però hai ragione. Nel momento in cui incontro le persone, io mi domando che c'è dietro questo senso di colpa. Io domando sempre, no? E le persone ci rimangono un po' così, un po' stupite. Ma a che ti serve? Ecco. Qual è il vantaggio? Perché te lo devo dire? E solitamente la risposta è niente. Io un po' anche provocando, ma da quant'è che lo senti questo senso di colpa? Da una vita. E allora come mai? Perché niente. Come mai niente? A qualcosa servirà? Siccome che tutto ha un senso, a che serve? E quindi dietro questo poi la persona si permette di ricollegare quello che c'è nella pancia, in maniera autentica e sincera. E di solito dietro il senso di colpa, oltre a quelle emozioni che abbiamo detto, ci sono dei bisogni che ogni persona ha e che può far difficoltà a soddisfare. Quali sono i bisogni dietro i sensi di colpa? Quello di volersi bene, di accettarsi così come si è. Ti faccio un esempio. Se Tiziano si accettasse, anche nel momento in cui dice no, quindi si dicesse posso dire no, e va bene così, vado bene così, non sono una cattiva persona, non rischio di essere, di perdere rapporti. Quindi molto probabilmente questo permetterebbe a Tiziano di vivere le relazioni in maniera più sincera, più autentica. Anche perché dire sempre sì non è autentico. È un po' forzato e forzoso forse, no? Cioè bisogna che le proprie dinamiche, la propria vita non sia poi così influenzata da ciò che noi vorremmo che gli altri percepissero di noi. Ok, sì. Dovrebbe essere. Quindi dare valore a quello che io penso di me. Quello che penso che sia il mio bene per me. Ecco, a questo punto, visto che parliamo del mio bene, ci vuole un po' di sano. Il sano mi piace molto, il sano egoismo che ogni tanto, che non va confuso con un'altra cosa ben diversa. Guarda, questa slide me l'hanno suggerita le persone che vengono da me. Perché quando chiedo che succederebbe se tu iniziassi a dire di no, le persone mi rispondono sarei egocentrico. Anzi, sarei egoista. Perché la risposta solita è egoista. Al che io chiedo, ma in che termine egoista? Nel termine che se dico di no, ci sono solamente io. Quindi questa è una cosa un po'... Stona, no? E da lì allora io chiedo, ma qual è la differenza secondo te, perché in italiano abbiamo una ricchezza di parole fantastica, qual è la differenza secondo te fra egoismo ed egocentrismo? E da lì si apre un mondo. Quindi, il senso di colpa ci porta inevitabilmente a pensare che se penso per me, mi amo, mi voglio bene, sono egocentrico. In verità, occorre un po' deconfondere, cioè dividere un po' i piani. Diverso è essere egocentrico dal essere egoista sano. Certo. Volermi bene. Certo. Ok? E questa è una differenza secondo me molto importante da poter apprendere. Ecco, comunque alla base di tutto, anche in questa tipologia di malessere che si può manifestare, c'è il volersi bene. Sì. Che ritorna anche da altre argomentazioni che abbiamo trattato. Quindi la centralità della persona e avere un sano giudizio di se stessi è comunque basilare. Quindi, anche in questo caso, lavorate sull'accettazione di sé. Anche al di fuori degli schemi. Lo schema per, che ne so, per Tiziano o per Pinco Pallino era quello di non mi posso arrabbiare, non posso dire no. C'è modo e modo di dire no, c'è modo e modo di arrabbiarsi. L'abbiamo detto anche in altre circostanze, no? Cioè, io posso arrabbiarmi in maniera congrua, posso invece arrabbiarmi esplodendo. Ed è diverso. Il rischio qual è? È che se io mi arrabbio esplodendo, posso passare per egocentrico. Questo è un rischio reale. Invece se io mi arrabbio in maniera congrua, mettendo in evidenza le mie motivazioni, in maniera... Un'arrabbia calma mi viene in mente, no? Di quelle violente... Da Orlando furiosa. Ok. Metto in evidenza me e mi voglio bene, mi accetto così come sono. E l'obiettivo di una psicoterapia è proprio questo, mettersi al centro, che non significa esserci solo ed esclusivamente, ma significa essere al centro, dove altre persone sono al centro come me e può nascere una relazione, un rapporto piacevole, comodo... E quindi che non... Equilibrato. Equilibrato, ecco, che sia un giusto equilibrio tra il noi e l'io, insomma. Sì, sì, e l'io e te. E l'io e te. Sì, sì, assolutamente. Va bene, quindi semplicemente un grazie, insomma, per questa... Grazie a te, grazie a voi. ...per questa bellissima disanima di un problema che si presta a tante interpretazioni. Ma come sempre la dottoressa Godi ci illustra con i suoi esempi, con le sue similitudini, figurandoci proprio in maniera tangibile le dinamiche. Sì. Che anche per voi non deve essere un compito facile, fare il discriminante tra, no, il vero problema e una cosa... Quindi, insomma, un compito importante. Guarda, io quello che... Dal mio punto di vista io sono fortunata, perché la mia professione si basa sul valorizzare e mettere al centro la persona. Quindi il mio compito non è quello di decidere un farmaco piuttosto che un altro, mi viene in mente, no? Che è un po' il compito dello psichiatra. Oddio, depressione maggiore... Sì, presenziale. Eccetera, eccetera. Cioè, quindi per me, al di là della diagnosi che lascia un po' il tempo che trova, è importante quello che la persona mi dice in quel momento. Se per quella persona c'è un vissuto esagerato, per quella persona evidentemente un senso ce l'ha. Andiamo a vedere qual è il senso per quella persona, no? Bene. La puntata di questa sera termina qui. Ringraziamo la dottoressa Sabina Godi per essere stata così precisa come sempre nell'affrontare un argomento come il senso di colpa, no? E non della colpa, di colpa, che può colpire, affliggere diverse persone che nella vita incappano in qualche incidente di percorso, chiamiamolo così. Bene, grazie per essere stati con noi. Le prossime puntate di Dopocena, come sempre, il martedì. Alle prossime. Grazie e arrivederci a tutti voi. Arrivederci. Grazie a tutti.